Intanto l'Imu è sospesa, nessuno in questo momento fa il bene del Paese né il bene del Governo ponendo condizioni o ricatti. È opportuno dare prova del nostro senso di responsabilità esattamente come ha fatto il Presidente del Consiglio andando in Europa e spiegando nelle principali capitali europee qual è il disegno del Governo italiano. La rata di giugno sarà sospesa, poi sarà il Parlamento nella sua sovranità a ridefinire con una riforma fiscale condivisa le caratteristiche della nuova tassazione.